allora buongiorno mi dico sempre qualcosa ho impastato stasera voglio fare la focaccia quella con i pomodori a pezzi io la chiamo la foggiana allora ho impastato 700 grammi di farina e 300 di semola e 400 bianca ho messo a 00 perché non avevo la 0 e 600 di acqua ml 100 di acqua e 10 grammi di lievito ho sciolto il lievito nell'acqua e aggiunto la farina se fate tutta bianca e 520 di acqua sono passate 40 minuti è un passato così con questo così proprio grezzo passati 40 minuti e inizio a fare così le pieghe vedete già come cambia l'impasto io adesso questa qua la devo fare per stasera farò 3 4 pieghe di queste a distanza di 40 minuti e poi la lascio evitare vedete poi le prossime la farò con le mani pieghe che mi dà con le mani ok e vi andiamo a tenere l'altri 40 minuti questa è la terza piega vedete guardate come è cresciuta devo bagnare l'acqua perché me si appiccica ma come cresce cresce tantissimo perché fa caldo ho fatto queste pieghe a distanza di 40 minuti così poi farò quella con le mani e poi basta la lascio la lascio crescere io mi sa dove accende la luce però eh vabbè risparmiamo ecco alla prossima allora dopo aver fatto la terza piega ma sto registra vabbè io intanto mi sono preparata pomodori tagliate ho messo aglio e origano sale mi ricordo sale aglio origano e basilico poi avevo fatto i peperoni arrostiti e ne ho messo uno a filettino di solito non lo metto è però adesso l'avevo e l'ho messo intanto intanto il giro e olio vedete mi ricordo una cosa per l'altro si girano in modo che il sale condimento caccia al sughetto che poi questo detto va messo anche sulla pizza e si lascia riposare nel frattempo che cresce la pizza allora questo fatto adesso andiamo a fare l'ultima piega mi bagno le mani la pizza è cresciuta dopo non c'è manco qua bisogno della piega guarda eh queste sono pieghe e in ciotola fa caldo cresce tanto cresce perciò adesso la lascio riposare quanto ha raddoppiato la preparo vabbè basta così va bastano le ho fatte pure tante e ci vediamo dopo allora la pasta è lievitata guardate com'è lievitata bene qui messo olio facciamo così sennò faccio cosco il pennello eh vabbè allora prendiamo le mani e adesso questa la abbasso ma guardate mi prenderò una parte vediamo se basta così proprio come si dice che non mi viaggio non mi vengono le parole quando c'è tanta acqua e come si chiama oddio non mi vengono ci fate caso eh la capoccia mia oggi va così va mi conviene smettere allora io non mi sono ricordata la parola che forse idratazione vabbè è molto idratata ecco allora se lo allargate adesso aggiungiamo i pomodori dobbiamo mettere anche il sugo eh perché questo è più è il più buono che dà sapore ah vedete che mi sono dimenticata nell'impasto non ho detto due cucchiaini di sale non mi sono ricordata che buono non potete immaginare che profumo questo abbondiamola che amica mia gli asce l'ho fatta e due vedete adesso poi ne è rimasta poca un pochino e faccio faccio una pizzetta fritta faccio la merendina faccio la merendina io sono il mio marito che gira avanti e indietro e mi fa segno che sono matta perché si pensa che sto parlando sola io ho fatto pure segno questo fa il video no? ecco lo segno così mi sei matta mi sono matta no? tranquilli questo più se cuoce più pomodoro c'è più buona è poi a chi piace può mettere il peperoncino questo è l'uso del paese del mio marito ecco finito adesso ho acceso il forno al massimo faccio riscaldare bene dando nel frattempo riposa un po' così e la metto al forno ci vediamo dopo ho quella quella che passa rimasta faccio due pizzette fritte viene questa e un'altra adesso queste qui queste due le taglio metto il pomodoro in mezzo le farcesco quest'altra metto il sale e la mangiamo così ho spruzzato altro origano su eh prima di metterle al forno ho fatto queste altre fritte che mi era rimasta la pasta ho detto no? ripieni ho messo il pomodoro vogliamo aprire questa vediamo com'è venuta io faccio sempre le cose in diretta no? è morbidissima eh no lo faccio guarda eh lo faccio eh oh manco si taglia pensa un po' oh manco si taglia non ci riesco pensa te ah mi stavo picciando zitta guarda eh ecco qua allora vedete mi fai video in diretta senza il pomodoro si infatti mi sa che non lo dovevo fare per far vedere i magagni ecco qui è venuta proprio un'altra perché questo è proprio il tipo a noi piace così è la foggiana e allora vabbè è venuta così se volete provarla provatela ciao 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 buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio ciao